Di solo risanamento l'Italia muore. Dopo più di un decennio senza crescita, le politiche per la ripresa non possono più attendere. Buonasera e benvenuti ad Arapacis. Quello guidato da Enrico Letta è un governo necessario, ma che rischia di non essere sufficiente neppure a se stesso. Quando il Presidente del Consiglio saluta il nuovo segretario del PD Epifani, dicendo che questo non è il governo per il quale loro hanno lottato, o quando il Vice Ministro dell'Economia Fassina va in televisione e dice che l'accordo PD-PDL è un accidente della storia e che, state tranquilli, lo faremo durare il meno possibile, è difficile pensare che le tante auspicate, almeno da me, larghe intese, siano un tentativo serio di dare una risposta seria alla crisi. E la stessa preoccupazione sorge quando Berlusconi convoca la piazza per difendere se stesso dai giudici, ma non tutti gli italiani della cattiva giustizia, e ci trascina anche ai Ministri a cominciare dal titolare degli interni. Ha voglia il Cavaliere di rassicurare sulla sua lealtà verso il Governo? Francamente mi sembra molto più intento a prepararsi alle elezioni. E di certo non ha attenuato la preoccupazione sulla tenuta del Governo l'esito del primo Consiglio dei Ministri, in cui l'annunciato decreto su IMU e rifinanziamento della Casa Integrazione è stato frettolosamente messo in frigorifero. È comprensibile che si partisse dai due temi, casa e lavoro, attraverso cui PDL e PD parlano ai rispettivi elettorati per rassicurarli che nonostante si siano messi con il nemico non dimenticano i loro interessi. Molto meno comprensibile, anzi inaccettabile, è che non si sia detto con quali risorse si copriva quella doppia manovra e in quale contesto programmatico si intendeva inserirla. Mattone e occupazione sono le bandiere contrapposte di destra e di sinistra, ma sventolarle così significa solo che si vuol tornare a votare. E quanto è successo a Brescia, a margine della manifestazione pro Berlusconi, le polemiche sorte dopo, dimostrano che la tensione batte la pacificazione 10 a 0. In queste condizioni il Governo delle Largentese non può resistere, neppure per il tempo necessario cambiare almeno la legge elettorale. Ormai è evidente, o Letta assume un ruolo nettamente più decisionista, facendosi coprire le spalle dal Presidente della Repubblica o se affida tutte le chance di continuità del Governo alla mediazione, di cui pure è maestro, alla prima curva uscirà di strada. I suggerimenti che Rappaci si permette di dargli e che sottopone al vaglio dei suoi ospiti di questa sera sono tre. Primo, prepari un provvedimento di taglio di spesa pubblica corrente e di valorizzazione finanziaria del patrimonio dello Stato e degli enti locali, cui chiamare a partecipare anche i privati. Parlo di centinaia, non di decine di miliardi, da spendere in investimenti per la crescita. Entro questa cornice faccia rientrare i provvedimenti su imu e occupazione. Secondo, consideri la giustizia una priorità, ma faccia quella riforma complessiva che Berlusconi non ha né voluto né saputo fare. Terzo, abroghi il porcellum, ripristinando il vecchio matarellum, così se si dovesse tornare alle urne si voti in modo decente. E poi istituisca con legge costituzionale la Convenzione per le riforme istituzionali, composta solo da non parlamentari, che abbia un compito redigente, così che al termine dei suoi lavori il Parlamento debba dire solo sì o no. Difficile? Mostruosamente difficile, ma l'alternativa non c'è. Sigla!